Tragedia in pieno centro, ad Avellino, una donna di mezza età si è lanciata dal sesto piano di un palazzo in via Campane. Molti testimoni dell'estremo gesto che raccontano di un rumore agghiacciante. La donna, figlia di un noto professionista della città, è morta sul colpo. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno provveduto a recintare la zona e isolare la strada dei curiosi, in attesa dell'arrivo del medico legale, giunto di lì a poco. Tra via Campane e le strade adiacenti è sceso un silenzio assordante.